come essere sano. Molte persone con malattie gravi darebbero qualsiasi cosa per una solo giorno di perfetta salute. Dopotutto, è solo quando si perde la vostra salute che vi rendete conto che cosa si aveva una volta. Per essere in buona salute e fare la maggior parte di quello che hai, seguire queste raccomandazioni. Avere una dieta sana. Bevi più acqua. Essere umani adulti dovrebbero bere 2-3 litri, o circa 8 bicchieri di 8 once, di acqua al giorno. Questo è in aggiunta a cose come tè e caffè. Acqua mantiene corpi alla giusta temperatura ed elimina le tossine che sono l'inevitabile risultato del metabolismo e della vita industriale. Sarete più sani automaticamente. Acqua cancella anche la pelle, aiuta i reni, aiuta a controllare l'appetito, e si mantiene eccitato. Si mantiene anche da bere bevande non salutari come la soda e succo di frutta, che sono ricchi di calorie. Il corpo registra a malapena l'assunzione di queste bevande insalubri e ancora si sentono ancora centinaia assetati di calorie in seguito. Se avete bisogno il gusto, spruzzare un po' di limone, lime, o succo di frutta al 100% nella vostra acqua. Tuttavia, essere sicuri che si mangia un sacco di alimenti ricchi di calcio, come broccoli, per sostenere la salute delle ossa come si invecchia. Fare colazione. Una luce, sana colazione è sufficiente per raccogliere i benefici di mangiare presto. Se è costituito da cereali integrali e proteine magre, allora vi terrà da rimpinzarsi a pranzo. La ricerca mostra che la prima colazione skip per in realtà mangiare di più. Quindi, per ridurre l'appetito, non saltare il primo pasto della giornata. Invece di due ciambelle al cioccolato e un caffè che è più la crema di ogni altra cosa, optare per le uova, frutta, e per una bevanda, il latte scremato, succo d'arancia fresco, o tè. La sana colazione è il più eccitato vi sentirete tutto il giorno e più non avrete bisogno di mangiare nel corso della giornata. Mangiare bene per tutta la giornata. Se la metà del vostro piatto è frutta e verdura, sei sulla strada giusta. Aggiungere in proteine magre, latticini a basso contenuto di grassi e cereali integrali. Una volta che un modello di mangiare costante è stato stabilito, il vostro corpo si sentirà più a suo agio. Ci può essere un periodo di tempo in cui il tuo corpo si sta chiedendo dove i cibi ricchi di zucchero è andato, ma una volta che sei sopra la gobba, vi sentirete meglio che mai. Ricordate che non tutti i grassi fanno male per voi. I grassi buoni possono essere trovati nel pesce grasso come il salmone e il tonno, avocado, noce e olio d'oliva. Questi sono essenziali per una dieta equilibrata. Leggi come mangiare sano per ulteriori suggerimenti. Mangiare al momento giusto. Un buon momento per un sano. Facile da digerire cena è 17 2.00 22.00, è meglio evitare spuntini a tarda notte, perché si riempiono di calorie inutili e possono disturbare il sonno. Se si ha bisogno che spuntino di mezzanotte, il bastone di noci senza sale, semi, frutta e verdura. Snacking non è male per te se lo fai bene. In effetti, mangiare costantemente si può evitare di sentirsi privati e andando per quel terzo pezzo di formaggio quando il carro rotola intorno. Basta fare in modo che sia tutto con moderazione. In considerazione di andare senza carne. Nel caso in cui non avete notato, la carne non ha giocato molto di un ruolo in ciò di cui abbiamo parlato finora. Essere vegetariani è un buon modo per ridurre l'apporto calorico e ottenere un sacco di vitamine e minerali, ma detto questo, si può fare male. Anche se non è la migliore idea di andare completamente vegetariano, la maggior parte delle persone mangiano troppo carne. Una buona idea è quella di modificare la quantità e il tipo di carne che si mangia, braciole di maiale di svap per il pollo magro, bistecca per il tonno. Una dieta ricca di fibre è facilmente avuto senza carne. Fibra ha dimostrato di abbassare il colesterolo, controllare i livelli di zucchero nel sangue, migliorare la vostra salute intestinale, e ti fanno meno probabilità di mangiare troppo. L'assunzione di fibre raccomandata è 30 g al giorno per gli uomini e 21 g per le donne, dopo i 50 anni, questo salta fino a 38 g per gli uomini e 25 g per le donne. Alcune buone fonti di fibra includono frutta e verdura, con la pelle, cereali integrali e legumi. Leggere le etichette. Gli alimenti trasformati preso una cattiva reputazione, e spesso per una buona ragione. Tuttavia, hai avuto modo di scegliere le tue battaglie. Quella borsa congelato di broccoli non è così grave come quella ma che formaggio in scatola. In breve, evitare gli alimenti trasformati quando è possibile, ma se non è possibile, leggere le etichette e guardare per aggiungere cose cattive, sale, zucchero e grassi. Il cibo che rimane sugli scaffali spesso ha aggiunto sodio, parole che terminano inose, e grassi trans e saturi nella lista degli ingredienti. Se vedete questi in etichetta, soprattutto se sono in quantità elevate, evitarli. È possibile trovare una sana alternativa altrove. Non ne vale la pena. Solo perché dice che non ha grassi trans in realtà non significa che non ha grassi trans. Quantità trascurabili possono essere legalmente ignorate, quindi se vedete olio vegetale idrogenato sulla lista, hai trovato uno dei colpevoli mascherati. Avere un piano di sano esercizio fisico. Mettersi in forma. Oltre ad aiutare a perdere peso e ottenere la fiducia, esercitando a una serie di altri benefici per il corpo e la mente. Avere una buona salute cardiovascolare è stato collegato a un ridotto rischio di Alzheimer, solo per citarne uno. Così ha colpito la piscina, il marciapiede, o il parco tutte le volte che è possibile. L'esercizio stimola il sistema immunitario troppo, anche un cambiamento come minore come camminando di buon passo per 20-30 minuti al giorno, 5 giorni alla settimana può migliorare il sistema immunitario, aumentandosi alla vostra anticorpi e la risposta delle cellule T-Killer. L'esercizio è anche uno dei modi migliori in assoluto per dormire meglio la notte, 10, che può aiutare a perdere peso, ti impedisce di mangiare troppo. Leggi come J-Fit per maggiori dettagli. Mantenere un peso sano. I nostri telai fisici di varie dimensioni e peso. Un individuo con una grande cornice può portare un po' più di peso mentre una persona con un telaio leggero sarà in grado di trasportare meno. Essere sotto peso non è una buona cosa sia. Non utilizzare alcun tipo di diete. Non esiste una bacchetta magica per la perdita di peso, e anche se ci fosse, morendo di fame il corpo di nutrienti vitali non sarebbe esso. Un lento cambiamento nelle vostre abitudini alimentari è molto più sicuro e di benefici a lungo termine per la vostra salute fisica sono maggiori. Se non si vuole andare su una dieta, leggere come perdere peso solo esercitando. Basta ricordare che solo gli atleti seri sono in grado di bruciare abbastanza calorie per essere in grado di godere di enormi indulgenze, e anche così, essi non tendono perché è difficile sul corpo. Anche se si consumano più calorie di sono raccomandati per te, essere sicuri che sono nutrienti, il cuore, cervello, muscoli, ossa, organi, e il sangue non può correre per sempre sulle calorie vuote. Treno croce. Solo perché è possibile eseguire 5 miglia, 8,0 chilometri, senza fermarsi non significa che sei in buona salute, lo stesso vale per il sollevamento pesi delle dimensioni di una piccola automobile. Se si fa una sola attività, si sta utilizzando solo un insieme di muscoli. Cross training. Non solo di fare diverse attività lavorano tutti i muscoli, che possono aiutare a prevenire infortuni, si mantiene anche da annoiarsi. Questo è l'ultimo esercizio assassino. Quindi includere allenamenti aerobici e la forza per la vostra routine. I muscoli saranno contenti di averlo fatto. Esercizio con saggezza. Va da sé che ci sono cattivi modi di lavorare fuori. Ogni volta che si ottiene il movimento ti metti a rischio di lesioni, in modo da assicurarsi che si sta facendo bene. Per prima cosa, rimanere idratati. Si dovrebbe sempre essere sorseggiando acqua durante gli allenamenti. Ottenere disidratato può portare a vertigini o mal di testa durante la sessione di sudore, o mancanza. Fare delle pause. Non è essere pigro, è di essere in buona salute. Non si può go 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 per sempre. Dopo 30 minuti o giù di lì di esercizio, afferrare la tua bottiglia d'acqua e alleggerire. Il corpo ha bisogno di un secondo per recuperare. Sarete in grado di andare oltre nel lungo periodo. Prendere la piccola opportunità. Essere fisicamente attivi non si tratta di battere il marciapiede o entrare in una palestra, è uno stile di vita che si può avere 24-7. Se è possibile aggiungere ulteriori 10 passi per la giornata qui e là, si sommano. Non hai qualche idea? Parcheggiare un po' più lontano dal lavoro, all'ingresso del centro commerciale, o il negozio di alimentari. Andare in bicicletta al lavoro o a scuola. Prendi le scale. Aspasso il cane ogni giorno. Prendere il pranzo al parco. Bicicletta al lavoro o il negozio di caffè locale. Piccoli opportunità sono ovunque. Essere emotivamente sani. Pensa positivo. È sorprendente quanto potere le nostre menti hanno più di tutto nella nostra vita. Un semplice tocco positivo su una situazione può trasformare un ostacolo in un'opportunità. Non solo si hanno più gusto per la vita, il sistema immunitario può combattere raffreddori e malattie cardiache meglio. Harvard non sarebbe mentire. Per avviare questa fase difficile, concentrarsi sulla gratitudine. Quando si inizia a pensare alla brutta cosa vorticoso attorno a voi, stop. Taglialo fuori. Pensare a due cose che sei grato. Alla fine, la vostra mente si nota il modello e fermare la negatività prima di avere a che fare consapevolmente. Essere soddisfatto. Questo non significa essere contenuto con la tua vita beh, lo fa, ma indica che un secondo, si sorta di significa soddisfare se stessi. Se siete a dieta, concedetevi una, piccola, po' di quello che stai craving. Se guardando le Golden Girls per tre ore in una notte di venerdì suona come il cielo, farlo. Quali che siano le piccole cose sono che ti rendono felice, loro fare. La vostra felicità è inestimabile. Se non sei felice, non sei completamente sano. E quando abbiamo la testa sul rettilineo che siamo in grado di attaccare tutto il resto. Se il lavoro, la famiglia, gli amici, una relazione, e il denaro si indossa verso il basso, la scelta tra quella tasca caldo e che tutto baghe il grano non ha molta importanza. Una mentalità sana deve essere nel qui e ora. Esso dovrebbe avere la preoccupazione per il futuro, certo, ma non dovrebbe essere preoccupati di ciò che non è ancora avvenuto o no. Essere emotivamente sani, e felice, è più facile da raggiungere quando ci si concentra sui gradini del vostro viaggio in contrasto con la destinazione. Se si vuole rendere a Broadway, concentrarsi su come ottenere il vostro prossimo provino. Gestire lo stress. Questo è enorme. Quando lo stress prende il sopravvento alla nostra vita, tutto il resto cade a pezzi. Le nostre case diventano ingombra, le nostre menti diventano ingombra, e le nostre relazioni diventano tese. Poi basta fare in modo di prendere dieci minuti fuori della vostra giornata al potere appena giù. Sedetevi con se stessi e solo respirare. Fare un punto per ottenere centrato tutti i giorni. Scegli i tuoi amici con saggezza. Sappiamo tutti quelle persone che sembrano svuotare noi, ma ancora siamo amici con loro in ogni caso perché hanno un bel televisore, o perché, beh, ci annoiamo. Purtroppo, per la nostra salute emotiva, hanno avuto modo di andare. Fanno noi non va bene e noi lo sanno, abbiamo appena ignoriamo per mantenere la coerenza ed evitare situazioni imbarazzanti. Essere produttivi. Uno dei migliori sentimenti a venire facilmente è quella sensazione di mi sono così tanto fatto oggi. Per quel momento, si sente praticamente inarrestabile. La tua mamma dicendo se metti la tua mente adesso, si può fare non è più una bugia. Ora immaginate di guida così in alto costantemente. Inizia con la creazione di un elenco di cose da fare. Un calendario o progettista è una buona idea, anche. E ricordate, pensare in piccolo. Attaccare un paio di piccole cose per farti andare. Otterrete su un rullo prima ancora di rendersene conto. Fare una pausa. Questo è simile alla fase essere soddisfatto, è necessario fare ciò che è giusto per te a volte, indipendentemente da ciò che il mondo sembra essere esigenti. Senza sentirsi in colpa, prendere quel Kit Kat proverbiale bar. Trascorrere una notte in. Fate una mattinata libera. Sarete due volte più eccitato quando si arriva di nuovo esso. Questo vale per esercizio troppo. Se fate la stessa cosa più e più volte, i muscoli si abitua adesso, si annoia, e si finisce per platea wing. Così, invece di battere il marciapiede il mercoledì, andare colpire la piscina. Non sei stato pigro tu sei di essere logico. Trova equilibrio emotivo. Anche se si master ogni altro aspetto della salute, non si sente completo se siete affetti dato molto interiore. Tutti hanno bisogno di un pic-me-up a volte, e ci sono molte piccole cose che si possono fare per sentirsi meglio con se stessi. Se il problema si estende più profondo, potrebbe essere necessario imparare a far fronte con il dolore emotivo o addirittura depressione. Una volta che avete lavorato su te stesso, si dovrebbe lavorare sul vostro approccio alle relazioni interpersonali.